Ma perché Zero Calcare ha scelto come animale della coscienza proprio l'armadillo? In primo luogo perché l'armadillo è l'animale sociopatico per eccellenza Infatti è un animale che a contatto con l'altro si chiude letteralmente su se stesso E in secondo luogo perché l'armadillo è l'unico animale che si può vedere gratuitamente se andate allo zoo di Roma Questo perché la gabbia dell'armadillo si trova prima della biglietteria Quindi anche non pagando il biglietto l'armadillo lo possiamo vedere